Deposta anche il grande Luigi, si va agli ordini dello starter. Partiti! All'interno Dark Grinta, largo Exceed Light, ancora più all'esterno Chomier con Exceed Light, Dark Grinta e Chomier in prima linea. Sono seguiti da Fantastic Queen il grande Luigi Giampuga, quindi Vincaminor, Olcar e Lusif Didi in coda Dane Gregg. Si va ad affrontare la prima piegata con Dark Grinta che con maggior decisione adesso assume l'iniziativa. Ha preso un 4-5 di lunghezze di margine nei confronti di Exceed Light. Terza posizione per Chomier in quarta Fantastic Light con a largo Olcar, quindi Jampuga. Largo è il grande Luigi in schiena, Jampuga invece è Olcar, quindi Dane Gregg e Lusif Didi. Continua di buona lena in avanti Dark Grinta, adesso il suo vantaggio è quantificabile intorno alle 6-7 lunghezze. Exceed Light che prova a riuscire il gap con il battistrada seguito da Fantastic Queen. Chomier richiesto all'esterno a contatto il grande Luigi Giampuga ed Olcar, quindi Dane Gregg e Lusif Didi. I cavalli sono a metà della piegata conclusiva con Dark Grinta che si mantiene in vantaggio nei confronti di Exceed Light. In corda chiusa è Fantastic Queen, è chiuso anche il grande Luigi, a largo ci prova che Dane Gregg quando si entra in retta di arrivo con Dane Gregg che si affaccia all'esterno in prima linea. Percorsi interno è Fantastic Queen, poi a ridosso anche Exceed Light con Dane Gregg che ha preso vantaggio nei confronti di il grande Luigi. Exceed Light, Fantastic Queen e il grande Luigi che va all'attacco di Dane Gregg. Dane Gregg e il grande Luigi alle prese, il grande Luigi all'interno che ha passato in vantaggio, il grande Luigi che vince davanti a Dane Gregg per il terzo vicini. Iampuga all'interno ed Olcar all'esterno con probabilmente quest'ultimo che fa su alla terza moneta. Andiamo comunque a vedere il replay, nessun dubbio per il successo che va al grande Luigi che ha rimontato palmo a palmo lo svantaggio nei confronti di Dane Gregg e nel finale lo ha regolato senza problemi. Ecco qua il replay con il grande Luigi che alla fine riesce a prendere la meglio nei confronti di Dane Gregg, mentre per il terzo posto Iampuga all'interno, Olcar all'esterno. Vediamo sul traguardo. Probabilmente Olcar che fa sulla terza moneta, comunque ci sarà probabilmente da attendere l'esito della fotografia per il terzo posto. Il successo va al grande Luigi numero 8 dello schieramento. I colori sono quelli della scuderia Sandro, il tren di Federico De Paola in sella Salvatore Basile al doppio in giornata.